Si è conclusa con un nuovo trionfo per la messinese Mael Bombaci, l'edizione 2013 dell'Epponia di ospitate dagli splendidi impianti dell'ippodromo militare di Tordiquinto. La manifestazione ha registrato un consistente incremento dei partecipanti ed è coincisa con la strepitosa affermazione dell'Amazzone messinese in groppa all'inseparabile occhi d'occhi. Mael ha concluso al secondo posto la prima giornata di gare nel dressage, nella categoria E206, alle spalle della quotata Nina Teresa Zennaro sulla cavallo tedesco Dujman. Il consueto talento e la grande tenacia le hanno poi permesso di chiudere al primo posto la seconda e conclusiva giornata di gare nella categoria E210. Soltanto quinta invece la Zennaro che ha così concluso nella graduatoria generale proprio alle spalle di Mael. Entrambe le dominatrici dell'Epponia di sono eseguite ormai da messi dalla coordinatrice responsabile del volteggio della nazionale Vanessa Ferluga. La Bombaci, che proprio ieri ha compiuto il 14esimo anno d'età, ha anche trascinato la Sicilia al nono posto complessivo nel medagliere, vincendo di fatto due delle tre medaglie complessive e delle isolane. Al loro individuale si aggiunge infatti il bronzo conquistato nella classifica squadra e con un lievissimo vantaggio sull'Emilia Romagna e alle spalle di Veneto e Lombardia. Determinanti in tal senso le prove delle messinesi Sveva Gallo e Silvia Vanderling, altre due allieve del circolo ippico Paolo Ferretti di Faro Superiore e dell'altra isolana Roberta Torrisi. Ovvia quindi la soddisfazione per l'Alella Dominici che d'altronde ha curato per anni la crescita di Mael e di tanti altri promettenti atleti. Con un totale di 27 medaglie e ben 14 d'oro e la Piemonte si è aggiudicata l'Epponia DLACoppa Challenge Ranieri di Campello, già ottenuta nel 2010 e consegnata alla rappresentativa vincitrice, secondo il Lazio, terza l'Emilia Romagna. Per Mael Bombaci il prossimo prestigioso traguardo è rappresentato dai campionati italiani in programma d'Arezzo il prossimo 22 settembre. Aperti sia i poni che i cavalli vedranno la 14enne messinese al Via nel criterium livello F di dressage.